La prima promessa è stata mantenuta. Ivan Mestrovic non ha badato a spese e ha rinforzato il Sant'Arcangelo di Alberto Cavazin, con gli arrivi del portiere Iglio, i difensori Lesiak e Maini, i cetrocampisti Semedo, Spogliaric, Weg e l'attaccante Tomislav Strucali. Per noi era un'opportunità di cercare di rafforzare al massimo la squadra e allo stesso tempo di creare le basi per il prossimo futuro. In tutto questo abbiamo diminuito molto il numero di giocatori in prestito e valorizzati, volutamente, andando a aumentare il numero di calciatori di nostra proprietà e di conseguenza andando a aumentare di molto il valore patrimoniale della società. La classifica è già mutata in positivo, ma ancora i gialloglu hanno tanta strada da fare per raggiungere la salvezza e puntare in alto, a cominciare dalla prossima sfida contro il Padova. Vediamo dopo pochi mesi dove è adesso. Credo che si è fatto un grosso passo avanti, ovviamente c'è tanta strada da fare, però un miglioramento c'è stato ed evidente.